Con Mr. Malotti, ultime due gare di campionato del Prato dopo un pareggio giunto all'ultimo istante? Giunto all'ultimo istante però meritatissimo, era immeritato lo svantaggio e credo sia stato più che meritato il pareggio acquisito nella maniera giusta con voglia di riconquistare quello che in quel momento ce l'ha stato tolto quindi chiaramente sono contento, però una partita archiviata, si pensa alla Carrarese, una partita fondamentale per noi andiamo con dei propositi importanti, poi chiaramente sarà facile, è una squadra in grande condizione con una serenità, una tranquillità mentale, buoni giocatori, quindi sarà una partita difficilissima che sono sicuro però ci troverà pronti. Il Prato l'affronta diciamo al completo? Il Prato l'affronta con i giocatori che ha a disposizione e poi ci sarà a disposizione non lo so, qualche defezione ci sta che ci sia però un po' importa, l'importante è che chiunque siano i titolari portino con sé quello che hanno portato domenica. Ci vogliono due vittorie per sperare insomma di riagganciare questa zona salvezza? Ci vuole una salvezza, la maniera in cui avverrà non mi interessa, però tutti insieme siamo propensi perché questo dovrà e deve succedere e quindi già da domenica ci prepariamo per acquisire una salvezza, poi se arriverà senza play out è meglio, se dovesse arrivare attraverso i play out va bene uguale, l'importante è che a fine campionato si possa festeggiare una salvezza che mi sembra doverosa per questa società. Allora siamo con Moncini, un gol importantissimo, è segnato proprio all'ultimo secondo che dà qualche speranza al Prato, adesso c'è la necessità di fare due vittorie consecutive. Sì, per forza dobbiamo puntare ai sei punti delle prossime due partite, il gol è stato importante anche se era fondamentale vincere, però non è che ci siamo accontentati del pareggio però meglio così che perdere tre punti, più che altro per restare attaccati alla zona sopra ai play out. Esatto, c'è ancora una speranza perché mancano due partite, Savona in casa l'ultima, adesso Carrara tra l'altro è la carrarese che sta facendo bene perché ha vinto anche a Pontedera. Sì, adesso noi pensiamo a quella di domenica a Carrara, è una squadra che è partita forte in campionato quindi vuol dire che dei valori importanti ce li ha. Non dobbiamo pensare che ci regali niente perché loro lotteranno dal primo al novantesimo e noi dovremo lottare fino al novantacinquesimo. Hai detto prima un pareggio che c'era l'obbligo della vittoria, però il Prato ci crede ancora. Certo, noi siamo i primi a crederci, ma non per modo di dire ci crediamo davvero. Il pareggio è stato bello, però ripeto i tre punti erano da portare a casa, soprattutto uno scontro diretto in casa, però meglio così. Con Matteo Serrotti, ultime due gare di campionato per il Prato, un pareggio con il Sant'Arcaggio l'ho acciuffato all'ultimo e adesso altre due gare, Carrarese e poi il Savone in casa per chiudere e per sperare con due vittorie di agganciare di nuovo questa zona salvezza. Sì, per noi sono due finali, noi sappiamo che ormai abbiamo solo risultato, dobbiamo cercare di vincere tutte e due le gare sperando di salvarsi direttamente, che i risultati ci aiutano, però in primis dobbiamo pensare a noi, perché dobbiamo vincere. Avete lottato, siete riusciti ad agganciare questo pareggio all'ultimo, avete dimostrato anche spirito di squadra e anche volontà. Sì, è il pareggio per come è arrivato, è un bel pareggio, un bel risultato, dispiace perché sicuramente domenica era una partita da vincere perché era uno scontro diretto, però ormai è passato, è passato, per come è arrivato ci ha dato anche spirito. Un spirito per andare a Carrara, per cercare i tre punti, tra l'altro una Carrarese che è andata a vincere a Ponte d'Era, quindi che sta facendo bene. Sì, a Carrarese sicuramente, penso che anche il giro è andata, ha valori importanti, è una signora squadra, lo dice la Lassifia dov'è, però tutte le gare sono difficili, abbiamo visto che con lo spirito di atteggiamento giusto puoi perdere con tutti e vincere con tutti. E lo spirito del Prato? Ma te lo ripeto, dobbiamo entrare, abbiamo solo un risultato.